bene 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 ben ritornati quindi andiamo un po nel mercato nero che è da tanto che non ci andiamo 140 cripto chiavi facciamo uno scambio di cripto chiavi quello raro animatica per il dredge niente scuse gesto per il prophet che non ho mai usato il prophet quindi va bene picco viola mirino varix mai usato il varix quindi bruciamo gli obbligati come si faceva non mi ricordo ok duplicati bruciali vediamo un po meglio di niente non so quante me ne addate facciamo anche un altro lancio vai un altro rifornimento raro vediamo che succede batti 5 del fire break l'infiltrazione la memetica per la i maker fuori legge calcio per l'argus leggenda ma io mai usato quindi si va a fringe stavolta metteremo il faro quindi ci prendiamo il faro e vai sarà più difficile perché sono veramente alle prime armi con il faro oltre che ad essere veramente fiacco su questo gioco ovviamente scarso purtroppo così diamo una bella bombina qui e poi ce ne andiamo perché sto sforzandomi con tutto me stesso di non camperare ma sapete queste sono le confessioni di un camper quindi difficile difficile resistere alla tentazione lui sta qui va bene questa qui dov'è il nostro faro lassù c'è nessuno no adesso ci fa un frontale con uno guarda ma ce so a quest'altri o ce sono a quest'altri o ce sono a quest'altri o solito stanno lì appollaiati io non vedo un cane ma dov'è stato io ah bravissimo qua inculata da stragrande si è sdraiato come un pezzo di merda però stavolta devi un headshot pezzo di fango infatti è molto bravo quel giocatore eh te camolo per lo meno per me e se bravi contro me ci vuole po' eh pensavo non me lo facevi ammazzare questa volta e uno arriverà c'è il ceccaccio c'è? no è di qua oh mamma mia mamma mia che fatica che fa guardalo guardalo da dove era entrato da dietro ho messo male la mina per forza dove siete cazzo c'è camolo al para c'è camolo ce n'è uno no questa è nostra questa è nostra c'è lì ah poi lo sapevo lo sapevo sempre te camolo eh bene ho visto ho visto allora questo l'ho devastato veramente l'ho ucciso 600 volte già io ho capito dove stanno quest'altro non ho capito dove cazzo oh è quello l'ho ammazzato lo sei ce l'ho uno dietro te camolo ah eh cazzo c'è alcuni fire era il nostro per fortuna ho visto uno mi sa che è morto mi sa anch'io ah ok ok c'è il camper accio anche lì dai dai ucciso il purifier bene 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 bomba c'è il camper accio nel fienile provo così ma è impossibile praticamente io sto camperando no non lo devo fare ecco grazie mi ha salvato quello sulla fine non è qui che voglia di camperare con te oh e questo l'ho ammazzato fammi cazzar sto gioco ce n'è ce n'è dove sei facciati facciati tutti qua bene documenia si buttiamoci uff merda era dietro di me guarda adesso è sempre dopo dicono a noi no che siamo camperoni qui è pieno di campero ma pieno ok se mi do di guarda attento che arrivano sempre da dietro eh ho sbagliato lato della corsia praticamente vaffanculo ciao amico ti ricordi di me merda nooo porco mondo ho sbagliato ho sbagliatissimo te levi dal cazzo eh vabbè entra dai entra esclodi no non l'ha fatto hanno messo le interferenze ciao sono quello di prima ciao sono quello di prima grandi ci siamo compenetrati vaffanculo poi il faro mi piace io so scarsissimo ma il faro mi piace la famosa zuppa al faro no carica bestia carica bestia immonde damocene da qui dai qui arriverà qualcuno no è il nostro ok ciao che cazzo come c'è te sdragli vicino a una macchina no no questo l'avevo preso merda quanto stiamo no non l'ho preso ma veramente come ho fatto a non tirarlo come c'è il culo come c'è il culo via 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 da qui faccia te non si affaccia non si affaccia in realtà come è andata 15 12 niente di speciale però non era semplice stiamo provando anche sto faro che mi piace molto però devo imparare assolutamente poi mi mette sempre a me il moglio ma perché vabbè comunque 15 12 risultato mediocre come sempre però cerchiamo di migliorare dai prima o poi abbiamo ucciso molto molto Tecamolo che prima dettava legge stavolta ha fatto ridere abbastanza quindi 0 24 addirittura l'ultimo ha fatto 0 24 non l'avevo visto mai cioè neanche una kill è incredibile va bene andiamo a vedere se ci sarà un'altra partita oppure ci saliviamo qui e finalmente abbiamo sbloccato la fmg perfetto vediamo un po' per il nostro faro io toglierei questa specialità metterei la fmg che ci da più danno e non è male bene 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 ancora fringe ancora fringe e c'è zazza 94 vorrei che fosse un amico che abbiamo cioè guagna zazza non lo so però in tal caso comunque sia lo saluto comunque anche se non è lui salutiamo zazza ok ok ancora faro proviamo questo fmg che abbiamo appena sbloccato dovremmo aumentare il danno e come sempre vi ricordo che ci piacerebbe giocare insieme a voi qui siamo su ps4 perché COD lo abbiamo su Blackhawks 3 lo abbiamo su ps4 non su pc o altre piattaforme che di cui disponiamo quindi se vi va se se avete voglia saremo ben felici di fare una partita tutti insieme e magari creare delle partite con delle regole apposite create da noi ok quell'altro non c'è ombra sto camperando si lo so sto camperando di brutto l'ho visto uno ci proviamo lo stesso lui si è appena affacciato non si affaccia più arriverà da dietro qui non c'è un cane io me la patto ce n'è uno là davanti però eh sono due sono due sono due e dai ma questo l'ho ammazzato porco ma dai via io boh se rinasco rinasco iracheno veramente hanno la linea anche loro che aveva meglio di noi mica perché non ce l'hanno da avere però siamo noi che fanno proprio fanno proprio schifo come me adesso che assurda ma chi è che spara così chi è lì ciao amico Yusef Yusef che significa Giuseppe no? chi è che me spara da dietro? c'è uno dietro? dai ma questo io porca puttana a certe volte veramente non riesco a capire che c'è uno nella macchina io so scarsissimo per carità però aaaah cu niente non si sa che volevo di però e qui non c'è un cane qui neanche dove siete? siete sempre in gruppo eh mi raccomando eh mi raccomando sempre a coppia eh come lì sbisci niente niente alleluia ho una mira pessima è vero però qui adesso ritornerà perché sa che so qui giusto? vabbè me levo dai sto a campera troppo uuh raga dove? c'è la mina dai avevo saltato po hanno messo tutte le mine lì ma che cazzo ma che partita è? ma dove stanno questi? questi io non li sto a capire veramente eh non li sto capendo che famo? non li sto a beccar proprio un giro sulla mappa per fortuna c'è il ramez che chignatto me lo scopo a pecorina bene facciate facciate t'ho visto? ah era il mio vaffanculo questi stanno qui eh giusto giusto sei un somaro frankie c'è il cecchino giù la testa ma dove oh? and da dove? c'è il cecchino dov'è? la provo così è a cazzo di cane gioco a cazzo di cane quindi bene ah ma questi stanno tutti sono di un clan è vero c'hanno tutti scritto turch penso che posso turchi? cos'è su me forte? niente oh niente io non so che cazzo di arma devo pigliare per poter fare il danno a sta gente non no 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 brucia ce n'è uno eh e dai oh ma no ma è impossibile sta cosa porcote ce n'ha veramente sta da fa' e sta arrivando da dietro guarda eh ma sicuro dove stanno poi? c'è non li vedo proprio sulla mappa veramente strana sta cosa ma ce so? si no mi ha messo la bomba ti diverti eh con queste bombe di merda stupido dai dai viacce viacce sempre vicini eh poi mi raccomando vaffanculo allora è possibile da tutti e sei vicini stanno sti grandissimi bastardoni ho anche l'hx lo so che è un puntaccio eh però che devo fa' ecco speriamo di beccarvi tutte e sei insieme pezzi di fango maremma cinghiala se ne occupa che mo' salgo allora no niente 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 non c'è verso non c'è verso stanno sempre a grappolo veramente come le cagate del coniglio allora bastardissimo dove stai ti pensi che ho paura di te eh? 14-13 mamma mia che scandalo gioco male un zio stanno tanto che si stanno tutti insieme c'è poco da c'è poco da star lì a pensare vaffanculo vaffanculo c'è uno lì stappaccia eh! allora guarda il discurso di uscire e sto pezzo le fango no perché ho dato la comitata sono un nabbo clamoroso tra l'altro è anche finito tanto loro stanno lì c'è poco da quando sponano sono sempre tutti insieme tu sei è sulla finestra è vero devo fare ammazzare e 16-15 partita mediocre ma sono contento per Tai Fu Ting questi stavano tutti insieme i mortacci loro e siamo a podio finalmente siamo a podio abbiamo vinto lo stesso nonostante c'erano i Turk che stavano insieme chiaramente eh già comunque vincolo sempre l'esagerazione però comunque sia vi ringrazio non fate caso al mio banner ma facciamo facciamo minaccia dai minaccia non mi ricordo neanche qual è ah ok il becchino il becchino quindi grazie grazie ancora lasciate tanti dislike e mi raccomando sempre viva il camperaggio sempre sempre vi rinnovo l'invito facciamo questo team in cui non ci possiamo muovere in 6 punti ci mettiamo e non ci possiamo muovere alla prossima si si oh oh Oh!